Il giorno dopo la decisione della consulta di ammettere i referendum che vogliono impedire la privatizzazione dell'acqua, siamo al comitato per fare una prima valutazione. Sì, grande soddisfazione per la decisione della consulta che ha confermato l'impianto generale che avevamo costruito sin dalla campagna di raccolta firme per cui nella prossima primavera si potrà andare a votare contro la privatizzazione dell'acqua. Sono stati ammessi due quesiti che praticamente sanciscono il no alla privatizzazione, il no all'affidamento ai privati della gestione del servizio idrico e il fatto che non potrà essere fatto profitto sulla gestione dell'acqua in Italia. Quindi un grande risultato per tutti coloro che si sono impegnati e attivati su questa battaglia di civiltà. Ricordiamo che oltre 2 milioni di cittadini hanno firmato i quesiti e che soprattutto è ancora in corso una straordinaria campagna di base su questo tema. Assolutamente. 1 milione e 400 mila persone hanno sottoscritto ciascuno dei quesiti e che hanno continuato ad attivarsi nei territori per diffondere l'informazione giusta su quello che è un tema così importante per la vita di tutte le persone. Perché appunto non si vuole che un servizio pubblico essenziale come quello dell'acqua venga tolto ai cittadini e che quindi se lo possa permettere solo chi è di un certo ceto sociale. Quindi una grande battaglia che riguarda tutte e tutti. Sarà una primavera di straordinaria mobilitazione perché questi referendum entrano in un pacchetto importante dove c'è anche il nucleare. Potrebbe essere una primavera molto positiva sui temi dell'ambiente e della qualità della vita? Sì, dalla decisione di ieri della Corte Costituzionale è emerso che sono stati ammessi i quesiti, due quesiti sull'acqua e uno sul nucleare. Quindi un pacchetto che riguarda i beni comuni, la tutela della vita delle persone e che quindi potrà aiutarsi, ci si potrebbe aiutare a vicenda su questi quesiti e questi temi così importanti. No al nucleare e no alla privatizzazione dell'acqua. Sempre che in questi temi non vengono distratti da questioni diverse che non hanno a che fare con il merito dei quesiti posti. Sì, diciamo che c'è ancora in ballo la decisione sul legittimo impedimento e quindi anche se ieri è stato dichiarato ammessibile il quesito dell'Italia dei Valori sul legittimo impedimento, oggi potrebbe sostanzialmente decadere se la legge non fosse dichiarata costituzionale. E quindi i referendum potrebbero trasformarsi in un plebiscito pro o contro il nostro primo ministro Berlusconi e quindi diciamo che forse non sarebbe poi così auspicabile da parte nostra. Invece se rimanessero dei temi ambientali che sono strettamente collegati tra loro sarebbe lo scenario quasi migliore per tutti. E quindi adesso che fare? Quali sono le priorità che dà il Comitato e le indicazioni anche organizzative per tutti coloro che vogliono impegnarsi fino in fondo per questa battaglia straordinaria e importantissima? Le indicazioni sono quelle appunto di continuare la mobilitazione sui territori in primis per sostenere le ragioni dei quesiti, del referendum e anche per sostenere economicamente il Comitato Promotore. Abbiamo fatto una scelta ben precisa che è quella dell'autofinanziamento per rendere indipendente anche dal punto di vista economico il movimento per l'acqua e che quindi questa campagna referendaria sia autofinanziata dai cittadini che credono in questa battaglia. Ci sono diciamo vari modi per farlo. Uno che sottolineo è quello della sottoscrizione con restituzione. Noi crediamo a tal punto che raggiungeremo il quorum e quindi diciamo a chi dona una quota al Comitato Promotore che gli verrà restituita nel momento in cui si raggiungerà il quorum attraverso il rimborso elettorale. Quindi una mossa per responsabilizzare ancora di più i cittadini proprio per far sì che il movimento con le proprie forze riesca a vincere questa grande battaglia. E i comitati per il sì? E i comitati per il sì che si creeranno nelle varie regioni, nelle varie province d'Italia, contribuiranno a far sì che questa sia appunto una lotta di tutti, sia chi diciamo si schiera in prima linea ma anche chi contribuirà con quello che può a far vincere il referendum. Ieri avete brindato con un bicchier d'acqua? Abbiamo brindato devo dire non solo con un bicchier d'acqua ma anche con una bella bottiglia di vino perché veramente è stata una grande soddisfazione aver visto, confermato tutto e lo straordinario lavoro che è stato fatto fino ad oggi.